Buongiorno a tutti, siamo qui oggi in questa conferenza stampa per presentare un progetto patrocinato dall'amministrazione comunale che vedrà la donazione di un pulmino da parte di Pulmino Amico alla Croce d'Argento per le attività, per il trasporto dei disabili, di persone con difficoltà motorie. Ci spiegheranno il progetto, adesso lascerò la parola per il saluto all'assessore Ilaria Pagani, poi ci spiegheranno il progetto per Pulmino Amico Alberto Mistò e poi abbiamo invece come Presidente della Croce d'Argento Paolo Casati e un volontario che ci racconterà un po' l'attività. Quindi lascerà la parola Ilaria Pagani. Grazie, buongiorno a tutti, porto a voi tutti i saluti anche dell'amministrazione comunale, del sindaco che purtroppo è stato chiamato per un impegno istituzionale e non ne ha potuto presenziare. Allora, ringrazio prima di tutto Pulmino Amico che ha voluto creare questa sinergia con Croce d'Argento che è una realtà presente sul nostro territorio e che sta facendo un gran lavoro. Che cosa è importante in questa collaborazione? L'interazione tra pubblico, privato e privato sociale. Questo è uno dei temi che stiamo portando avanti come amministrazione, la creazione di una rete, la creazione di strategie che possano far interagire le diverse realtà e le diverse sensibilità proprio per favorire le persone più fragili e accompagnarle nei loro percorsi. Accompagnarle in tutti i sensi, in questo caso, nel senso che questa donazione di questo pulmino che prevederà anche il coinvolgimento, e dopo dico anche una cosa su questo tema, il coinvolgimento di privato, qualcuno vedo che è già presente, qualcuno che mi hanno detto e ho già collaborato con un amico in altri progetti, questo coinvolgimento anche del privato, delle imprese, degli imprenditori e la sensibilizzazione del territorio è fondamentale perché ci permette di, come dire, osare anche di fare un passo in più come amministrazione, di interagire con chi sul territorio ha un'attività imprenditoriale, anche per capire insieme quali sono le strategie che possiamo mettere in campo per aiutare i nostri cittadini. L'altra cosa che mi sembra molto interessante rispetto a questo progetto è la donazione che verrà erogata da Pumino Amico di un defibrillatore per i nostri cittadini, verrà posizionato in un centro città, adesso con l'ufficio tecnico stiamo ragionando quale possa essere la posizione più idonea, però è anche questo un valore aggiunto, anche questo è un motivo d'orgoglio per noi come amministrazione di aver voluto patrocinare questa iniziativa, anche perché avremo una ricaduta sulla città tutta e in particolar modo sui cittadini più fragili e più, come dire, che hanno più bisogno di un accompagnamento sociale. Direi che lascio la parola al referente di Pumino Amico, prego un applauso anche all'assessore Pagani e ringrazio un po' in generale tutta l'amministrazione comunale di Saronno per aver dato attenzione alla nostra iniziativa e aver deciso, come abbiamo sentito appunto, di patrocinarla. Perché questa giornata? Per dare visibilità a un progetto che comunque è attivo dal 2007, noi di Pumino Amico ci imponiamo da anni nel poter dare appunto dei veicoli, degli strumenti a realtà che sono o amministrazioni comunali direttamente o associazioni volontariate, in questo caso Croce d'Argento, affinché poi loro riescano a svolgere il lavoro che insomma gli è richiesto e parlo con lo spirito di solidarietà che tutti i giorni li accompagna nei loro servizi. Poi sicuramente loro sapranno meglio di me argomentare che cosa fanno per la cittadinanza e quindi tutti i servizi e perché c'è bisogno di integrare con un nuovo veicolo la loro flotta che già oggi gira sulla città. questa occasione per noi è di presentarci, ci tengo sempre a ringraziare anche Stefano Celli che mi accompagna, per la persona che mi aiuta e assura tutti i rapporti tra comuni e associazioni senza la quale comunque non ci sarebbe magari molto spesso la possibilità di avviare queste iniziative. E poi qui vicino a me c'è Rita Vitale che è l'incaricata che andrà presso l'attività dell'interno e viene assistita da Flavio Lietti che è un nostro responsabile senior per cui anche noi cerchiamo di mettere in campo tutta la nostra forza per darci un tempo che sarà il più breve possibile, indicativamente noi gireremo per i prossimi 3-4 mesi, agosto escluso perché si sa che le aziende chiudono per le ferie agostane, per poter andare a incontrare degli imprenditori e proporre l'adesione al progetto Pulmino Amico. Quindi fondamentalmente si chiederà loro di affittare uno spazio sulla carrozzeria del veicolo affinché questo intervento permetta appunto la messa in strada dell'automezzo e quindi anche tutto il mantenimento di tutti i costi relativi allo stesso. Quindi la finalità di questo progetto è fare da ponte tra le esigenze del privato e tra le esigenze del pubblico quindi anche dell'associazione del terzo settore e il mondo del privato e quindi delle aziende che in questa maniera possono occorre in essere delle azioni concrete per il loro territorio. Come dicevamo l'iniziativa Pulmino Amico si rinnova nel tempo e quindi abbiamo deciso di andare a integrare un elemento di benessere per il territorio, quindi in questo caso un defibrillatore, un presidio sul territorio. L'amministrazione anche in questo caso ha trovato interessante e importante questo aspetto per cui per tutte le aziende che aderiranno all'iniziativa diciamo storica quella di Pulmino Amico quindi di comparire sulla carrozzeria del veicolo, verranno anche riportate su una piantana di un defibrillatore che verrà posizionato in un punto sensibile del territorio. Quindi noi ci aspettiamo e speriamo che da oggi in avanti ci sia interesse che Ricca andrà giornalmente a incontrare tanti imprenditori e insomma ci aspettiamo che trovi le porte aperte. Va bene, grazie intanto e la tua parola... Se mi permette anche però giustamente come diceva lei, c'è qua comunque il primo sponso che ha aderito la Ferrari Assicurazioni, ci tengo comunque a ringraziare... Il giorno della cerimonia di consegna del mezzo saranno presenti, questo come ho detto, tutti gli imprenditori quindi faremo una bella festa, ci sarà una parola di ringraziamento quindi un bel momento. Non è mai scontato comunque anche dedicare del tempo prima o comunque già essere tra i primi a voler salire a bordo di questa iniziativa. Ci tenevo. Grazie a voi per l'amore che fate. Prego. Sono Presidente da due anni della Croce d'Argento qui di Saronno e di Vingate. La Croce d'Argento ha una storicità di quasi 60 anni, quindi tra due anni compierà 60 anni. Quindi con i militi, i centri volontari e i dipendenti portano avanti progetti di salute e confronti delle persone che hanno bisogno, hanno 118. E poi lato ci sono degli automezzi che sono dedicati ai bambini disabili, dove li portiamo nelle varie scuole anche con tanti, quindi a Mosise Parini e a Cesano Boscone, quindi con viaggi molto lunghi che è andata per il volo. Questo progetto che è stato messo in campo nei nostri confronti è anche un orgoglio, perché una macchina in più diamo un nome in più a delle persone. spero di esserci tra due anni per fare poi il sessantesimo di questa associazione. non so se ci sarò, però avrò, niente, i militi sono eccezionali, perché non hanno un orgoglio, sono sempre presenti, sarò due persone e lascio la parola a lui. Buongiorno, sono Maurizio Reo, dipendente della situazione di Cassi d'Argento, che così per dare due numeri, per dare un'idea dell'attività che svolgiamo, così anche da vedere nel concreto dove poi questa iniziativa andrà a svilupparsi, andrà a realizzarsi. Diciamo noi, come anticipato il Presidente, siamo quasi 60 anni che siamo sotto il territorio, su Sarone in particolare, quasi 50 anni che sull'ospedale di Sarone siamo stati e contemporaneamente abbiamo svolto anche servizi di altro genere, oltre che trasporti sanitari in presto. Questi servizi, diciamo, inizialmente la Cassi d'Argento nasce per dare un supporto sanitario alla popolazione sul territorio, perché mancava negli anni 60, è stata una struttura di quel genere. Di conseguenza su questa spinta da parte di alcuni cittadini che hanno voluto creare questa realtà, si è mano a mano sviluppata e si è articolata anche in molte altre branche che oggi ci vedono impegnati. Ripeto, il trasporto sanitario è l'ultimo luogo, poi abbiamo gli accordi con le aziende sanitarie locali, per il trasporto di persone con patologie particolari, accordi con le amministrazioni locali per quanto riguarda i trasporti sociali. Per esempio, diamo assistenza sanitaria a quelli che sono eventi, manifestazioni sul territorio, oltre che fare il servizio di soccorso e sospedaliero, quindi 112. A questo ha avuto ultimamente un incremento e si aggiunge il discorso della dichiarazione del privato, che è quello che sta esplodendo in questo momento. In pratica, l'aumento dell'età della popolazione ha fatto sì che sempre più persone hanno bisogno di un supporto al punto di vista della mobilità, perché la famiglia non riesce a comunicarli, perché magari sono allettati o hanno i gradi dei distributori e ultimamente ci sono dovute un'esplosione di questo tipo di trasporti e qua entra anche il mio amico, perché va proprio a sopperire o comunque a integrare quella che è già la nostra attività e che, se guardiamo i numeri, è destinata ad aumentare, perché comunque la popolazione continuerà a rinvecchiare e ci sarà sempre più bisogno di questo tipo di supporto. Diciamo, noi continuiamo a svolgere tutte queste attività, tutto quello che viene in più, che può essere mezzi, che può essere personali, che può essere risorse, non fa altro che rendere più facile questo nostro obiettivo. Il futuro ci dà tanto lavoro, speriamo di portarlo avanti nel miglior modo possibile. Grazie. 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 Se qualcuno vuole fare qualche domanda. Se qualcuno ha qualche domanda, qualche collega... Cioè, quindi adesso comincia questa campagna per avvistare il tumino, cioè si sa più o meno quando potrebbe essere avvistare il tumino, potrebbe essere operativo. Ma allora, tutto dipende da quando riusciamo appunto a coinvolgere fondamentalmente, sempre mediamente, gli sponsor delle nostre iniziative sono 30-40 aziende. Nello specifico lei consideri che Rita dovrà incontrare 300-400 imprenditori per poter trovare queste adesioni. Quindi, compatibilmente anche con lo sforzo, insomma, personale che ci metterà e sarà comunque importante, noi mediamente chiudiamo le iniziative in 3-4 mesi. Quindi, dicevo prima che scontando il mese di agosto, noi andremo comunque verso il periodo di Natale. Questo era un spiccio e il... E il motivo... Beh, un po' di colori, un po' di... Si sa. La... Cioè, questa di solito è la tempistica. Logicamente, un momento come questo è la volontà appunto di inviare una piccola conferenza stampa, ci aiuta a dare maggior trasparenza e slancio al progetto. Quindi ci aspettiamo adesso un bel mese di luglio che, come prima, stavamo parlando un po' delle temperature. Magari qualcuno non sarà molto felice, ma, tra virgolette, magari agevolerà un po' l'attività di Enrica perché muoversi col gran caldo, no? Non è semplice, no? Durante la giornata magari imprenditori cominciano a pensare al mare, però al mese di luglio noi speriamo di trovare le porte aperte, e poi ci si rivedrà a settembre, ma indicativamente la nostra opera si svolge con queste tempistiche. Ecco. Ma quindi il pulmino, cioè, sarebbe già pronto per fin anno, no? Fin anno? Sì, sì. Beh, sì. Noi ci muoviamo già prima per la messa in strada e la... prenotiamo già i nostri liquidi perché noi abbiamo 120 progetti attivi in Italia per cui con varie amministrazioni in varie regioni d'Italia fino al centro Italia. Abbiamo necessità, quando prendiamo un impegno come quello che stiamo assumendo qua oggi, già di muoverci e di avere a disposizione il veicolo. Se questo si dovesse chiudere in un mese, a Meda abbiamo messo in strada un autoveicolo per un'associazione, abbiamo fatto una raccolta in un mese e mezzo, per cui dopo due mesi eravamo già in piazza a fare la cerimonia di navigazione. Noi, diciamo, ci prepariamo, abbiamo tutta una struttura dietro per cui dobbiamo farci trovare pronti, però se dobbiamo considerare dei tempi standard da più o meno sono quelli più complicati. Ci vorrei chiedere, da un progetto d'argento, quanti mezzi ha, quanti volontari sono i tempi? Scusate, io devo mandare il dovere mi chiamo. Buona giornata, grazie. Buon lavoro. Buon lavoro. Se non è stato un progetto d'argento e poco non avere un'interessa cosa, poi dopo tanti volontari, visto questo virus maledetto, hanno lasciato la croce. Ah, salone di pasto, sono. Salone di... Salone di impiato. Salone di impiato. Salone di impiato e per 960. e invece come servizi annui siamo circa sui 7 mila servizi di trasporti, trasporto per i bambini, trasporto per gli anziani, 118-112 altri numeri? altri mezzi abbiamo circa una ventina di mezzi tra ambulanze, mezzi attrezzati per i trasporti usabili e mezzi di trasporti normali le ambulanze poi sono sia per il discorso dell'agenzia sul territorio, quindi 112 e poi abbiamo 6 ambulanze invece che sono apprezzate per il trasporto anche in emergenza critica su pazienti critici Anzi, magari questo se posso è un'altra occasione per far rilanciare l'attività che fa così l'agento perché i nostri progetti servono anche per divulgare la loro missione e magari qualche cittadino, qualche persona si avvicina anche a questa realtà Sì, poi in questo momento c'è bisogno, perché è una constatazione purtroppo amara mentre i volontariati negli anni precedenti avevano un bel richiamo soprattutto tra i giovani e poi sta venendo a mancare, per cui forse conosce, forse vivere sul territorio è estremamente importante e noi cercheremo di aiutarvi Stiamo lavorando in questo senso con diverse associazioni proprio per promuovere il volontariato come strumento per anche un invecchiamento attivo delle persone che magari vanno in pensione ancora con delle buonissime capacità di supporto ad altri ma anche con i giovani assolutamente sì perché si è un po' persa questa cosa del volontariato il Covid poi ha bloccato un po' tutto quello che era anche magari già ben avviato però è un tema sul quale stiamo cercando di organizzarci e cercare di promuovere questa attività tra i nostri cittadini, sicuramente avremo modo per confrontarci Forse è una domanda che non ho fatto, a profitto di questa sede Voi siete formatori anche per l'utilizzo del defibrillatore? Sì, io prossimamente sono il tutore regionale per quanto riguarda il progetto dell'Uriere del Sublaico No, dico questo perché è un nostro auspicio anche magari di poter coinvolgere qualche imprenditore una volta che avremo consegnato il defibrillatore quindi alla cittadinanza ma quindi per renderlo anche un concittadino consapevole se non ha già fatto il corso magari avrà piacere anche di approfondire questa tematica di solito quando troviamo un'associazione che già ha all'interno un informatore magari vediamo a farla tramite voi, così si chiude anche un po' il cerchio anche da questo punto di vista, credo che sarà qualcosa di interessante che alcuni imprenditori valuteranno Scusi, questo Fulmino è attrezzato, quanto viene a costare? Ma allora, il Fulmino ad oggi il Fiat Doblò siamo sull'ordine di 42 mila euro di veicolo Fiat dall'anno scorso, cioè ormai da un anno e mezzo ha messo fuori produzione quello che era il Doblò precedente ad oggi abbiamo dovuto insieme anche a un allestitore emiliano vedere un nuovo strumento che sarà sempre un Doblò adattato per cui mentre prima il costo era più inferiore adesso purtroppo è aumentato come tante cose oltre a questo logicamente dovremo anche scontare tutti quelli che sono i vari costi per quanto riguarda il mantenimento e l'assistenza per il veicolo per quanto riguarda, cioè la finalità è proprio mettere nelle condizioni l'associazione di non sostenere nessun costo se non quello del carburante o dell'attività umana che fanno i volontari questo è un po' l'intento per cui noi ci muoviamo poi ci sono anche tutti gli altri costi che vabbè non sto qua a evincare però logicamente anche il defibrillatore e altri aspetti sono importanti e giustificano anche questi progetti sociali che comunque rinnoviamo nel tempo che ci prendono, almeno per quel che riguarda il mio amico devo dire che il rapporto con le amministrazioni locali di Mozzeprianza dove abbiamo la sede a Giussano ma diciamo qua nel nord e come dicevo fino al centro Italia rinnoviamo nel tempo perché questo bisogno che nasce con questi veicoli che mi sentiamo attuale sarà anzi sempre più richiesto nei anni avvenuti solo una domanda, io sentivo prima mentre chiacchieravamo che parlava appunto della difficoltà degli imprenditori di poter magari investire adesso perché è un momento un po' critico anche dell'economia in generale ma c'è una cifra di ingresso minima per entrare o è una tanto, uno verso qualcosa? cioè come viene diviso il costo di questo? noi abbiamo suddiviso la superficie del veicolo in moduli quindi in base a quante vogliono affittarne, quindi maggior visibilità ma solitamente per poter apparire da 750 euro all'anno non sono neanche cifre improponibili per dirci no, noi mettiamo poi questa è una parte perché azienda che fa anche questo tipo di iniziativa noi mettiamo una fattura, l'imprenditore se la può scaricare completamente gli concediamo anche un pagamento in 12 mesi per cui ci sobbarchiamo anche dei costi anche finanziari e altre cose di gestione sono tutti quei elementi in più che poi quando anche noi volontariamente facciamo un resoconto di quello che è la nostra attività economica sono sottovalutate però vediamo che come pacchetto possa riscontrare l'interesse è logico che ad aziende importanti del territorio solitamente magari si chiede di apparire con sconsumissioni più importanti quindi prendere magari immagini più grandi oppure magari alcune volte proprio perché un imprenditore vuole comunque apparire magari diciamo comunque uno spazzettino te lo ricaviamo lo stesso non siamo qua per chiudere le porte a nessuno poi è interessante questa cosa dei moduli nel senso che un piccolo imprenditore è un artigiano che però ha piacere anche per vicinanza diciamo così di valori partecipare a un progetto del genere dare la possibilità anche a un piccolino di poter partecipare è importante, qua ce n'è dei piccolini certo ma anche qua, visto che siamo un po' verso la chiusura però non bisogna pensare che questo è un progetto comunque limitato alle grandi realtà alle grandi aziende perché lì subentrano un po' magari anche non necessariamente sono così legate al territorio nonostante abbiano i loro dipendenti che vivono magari hanno altri interessi preferiscono magari a livello centrale fare, come si chiama, progetti sociali con fondazioni o altro troviamo più apertura e più attenzione nell'imprenditore, nel piccolo imprenditore che vive è importante passare questo messaggio perché non sempre una cosa sai ci vuole il grande nome invece è bello passare questo messaggio il 70% delle nostre adesioni avviene dall'SRL quindi le aziende comunque le SPA sono il 15% di tutti i nostri sponsor abbiamo molte 3.000 attivi ad oggi per cui è logico che poi quando si va sull'imprenditore individuale o con le piccole sasse SNC bisogna poi scontrarsi con il loro potere di spesa queste sono un po' statistiche nostre ma però è così quindi crediamo che Sarone comunque è un vaccino che magari può avere nell'arco degli anni più o meno fortuna però è un centro importante sappiamo che gli imprenditori locali sono molto sensibili e quindi porranno attenzione a questa iniziativa grazie 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 a tutti grazie